L'emergenza coronavirus si fa sempre più delicata a Piacenza. Oggi nella nostra provincia tre decessi e record di contagi per una sola giornata, 308. Il direttore dell'ASL Baldino rassicura il sistema sanitario regge ma ciascun cittadino deve fare la propria parte. A mezzanotte Piacenza e tutta la regione Emilia-Romagna entreranno in zona arancione. Aumentano le limitazioni anticontagio a cui si sommano anche le restrizioni previste dall'ordinanza regionale contro gli assembramenti scattate oggi. Nel TGL la preoccupazione di baristi ambulanti per il destino delle attività. I negozianti hanno spento le luci per 15 minuti in segno di protesta. Manifestazione sul Faxal. Sul parabrezza di un'auto posteggiata in via Campania si sono accumulate multe su multe. Un lodigiano l'aveva parcheggiata per andare in ospedale dove è morto ormai diversi giorni fa. Una buona notizia e due negative per il piace. Mister Manzo può tornare in panchina dopo il secondo tampone negativo ma altri due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al coronavirus. La trasferta di domani ad Alessandria spostata alle 17.30.